L'ictus cerebrale rappresenta la seconda causa di morte a livello mondiale e la terza nei paesi dove è maggiore lo sviluppo economico, dopo le malattie cardiovascolari e i tumori. Causa al 10-12% di tutti i decessi nell'arco di un anno ed è la principale causa di invalidità e la seconda di demenza. Grazie a tutti.